I mercati finanziari sono il motore di tutto ciò che accade nel mondo, per questo è necessario governarli con una cultura multidisciplinare. Così il neoretore dell'Università degli Studi di Salerno, Vincenzo Loia, nel corso del convegno dal titolo Le fonti del diritto dei mercati finanziari, organizzato presso il campus di Fisciano, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Associazione dei docenti di diritto dell'economia e Fondazione Universitaria. Nell'ambito dell'iniziativa il neoretore Loia e il professore Giovanni Sciancalepore, direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, hanno segnalato l'attivazione, a partire dal prossimo anno, di un corso di laurea in giurista di impresa e nuove tecnologie. Oggi quello che avviene, quello che leggiamo dai giornali e anche ovviamente dalla televisione, sono risultati di processi finanziari. Il diritto e tutto quello che è la della cultura giuridica deve tener conto di queste evoluzioni, si deve arricchire ovviamente ed è quello che noi cerchiamo di fare in questa università anche attraverso la promozione di nuovi corsi di studio, come quello che è stato anticipato di giurista di impresa. Stiamo lavorando a questo progetto che è addirittura d'arrivo per il giurista di impresa e delle nuove tecnologie. Ci tengo a chiarire questo aspetto che non è residuale rispetto alla figura del giurista di impresa. Vogliamo essere al passo con i tempi perché intercettando delle esigenze di qualificazione e di specializzazione ci siamo resi conto che il territorio, ma non solo locale, anche di caratura nazionale necessita proprio di una figura, di una formazione mirata appunto al giurista di impresa, ma attento anche all'aspetto delle nuove tecnologie. All'appuntamento che ha registrato la partecipazione di numerosi studenti hanno preso parte tra gli altri la professoressa Caterina Miraglia, presidente della Fondazione Universitaria, il professore Francesco Fasolino, presidente del corso di laurea del Dipartimento di Scienze Giuridiche e la professoressa Angela Principe, ordinario di diritto bancario di Unisa. Grande attenzione ha suscitato l'intervento dell'avvocato Salvatore Providenti, già responsabile della consulenza legale di Consob, oggi docente presso la scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Luis di Roma e special partner di Legalia, che ha approfondito il ruolo degli interventi giudiziari come fonti del diritto dei mercati finanziari. È molto importante in questo settore l'evoluzione della giurisprudenza, che a volte anche si allinea a quello che dicono le autorità indipendenti come la Consob o la Banca d'Italia, che afferma dei principi che poi diventano vincolanti per gli operatori, da anche delle indicazioni su come comportarsi. È un settore in cui ci sono molte regole generali e quindi hanno bisogno di essere rese operative da interventi amministrativi giurisprudenziali che le fanno capire meglio. È interessante che una giurisprudenza nazionale, ma anche europea, di vari livelli, corti di merito, corte costituzionale, corte di giustizia dell'Unione Europea, corte europee ai diritti dell'uomo. È un campo che si sta sviluppando molto interessante.